Erano cani da caccia in un recinto lasciati soli completamente ma nello sporco assoluto direi anche affamati perché ancora non sono ingrassati nonostante insomma il mangiare quotidiano di qui. Quindi direi proprio che sono l'esempio di come quando il cane da caccia non serve più viene trattato o così o ammazzato oppure magari lasciato in mezzo al bosco. Erano stati ritrovati così alle porte della città di Arezzo, pelle e ossa, ricoperti di pulci, sofferenti. Si tratta dell'ultimo caso di maltrattamento che si è verificato nel retino. A prendersi cura dei cani adesso dopo il sequestro dei carabinieri forestali sono i volontari del canile gestito dall'EMPA che anche quest'estate però ha dovuto fare i conti con il fenomeno degli abbandoni degli animali domestici e non solo. I casi di maltrattamento direi che la novità, il vero abbandono estivo sta cambiando. Almeno qui da noi nel centro Italia, ad Arezzo specialmente il classico cane randagio è sempre più difficile da trovare. O si trovano le cucciolate che però secondo noi comunque sono il risultato o di qualche staffetta andata male o di qualche vendita andata male. Ma esiste appunto questo fenomeno dell'abbandono per casi sociali o perché il proprietario è solo e quindi si trova a dover affrontare un periodo di vita magari di ristabilizzazione. Quindi il cane diventa un problema e deve essere comunque collocato oppure situazioni di vero e proprio maltrattamento. E proprio per quanto riguarda questi ultimi casi l'EMPA intende mettere in campo tutte le azioni possibili per tutelare gli animali. Sicuramente faremo di tutto. È chiaro sono sotto sequestro e si deve aspettare il periodo processuale, l'iter processuale. Però secondo noi questi cani non sono assolutamente da dare e quindi con il nostro legale Simona Chiarini faremo tutti i passaggi possibili affinché ci sia una condanna e quindi una confisca dei cani. Un'altra emergenza è quella relativa ai gattini. Al canile di Via della Cella dall'inizio della bella stagione sono infatti arrivate numerose cucciolate abbandonate in vari angoli della provincia. I gattini non sono mai mancati e secondo noi è il vero problema, per noi almeno ha sostituito il problema del randagismo classico. Perché le colonie sono sì sotto controllo, tanto è stato fatto perché abbiamo una stanza di agenza fatta dal comune che funziona benissimo. Ma abbiamo anche delle situazioni di sterilizzazione che non girano come dovrebbero girare.